Giussi Costanza, un nuovo progetto editoriale che nasce a Gela e che mira cosa? L'ambizione è quella di arrivare quanto più in alto possibile e allargarci in tutta la regione, però intanto partiamo da qui, distribuiremo il giornale che è un free press made in Sicily Sparapicca a Gela e nel circondario, sperando appunto, come dicevo poc'anzi, di arrivare quanto più in alto possibile. Giacomo Curizzi, in un periodo in cui i giornali non vanno alla grande perché c'è una perdita sostanziale, però voi di contro andate controcorrente se vogliamo. No, Madden Sicily è un punto di partenza per noi, noi come azienda grafica vogliamo intraprendere questa nuova attività editoriale perché vediamo una città nuda sotto questo punto di vista. Si parla di turismo ma questa città non ha né una cartina turistica, una guida enogastronomica, una carta dei servizi, prodotti che noi stampiamo giornalmente per le città del comprensorio, Licata, Sciacca e via dicendo. Il progetto è ambizioso, visto che chi dovrebbe commissionare questi lavori non li fa, li faremo noi con la nostra azienda. E' un giornale, se vogliamo, Rosa Battaglia di denuncia? E' un giornale che invita a fare meno gossip e ad approfondire le storie di cui il nostro territorio è pieno. Abbiamo davvero delle notizie, io direi, strepitose che nella stampa locale purtroppo non trovano spazio, vuoi per l'approfondimento di cui hanno bisogno, vuoi perché ci vogliono persone senza alcun pregiudizio per arrivare a certe storie e intervistare un determinato tipo di pubblico, di target. Noi abbiamo scelto di farlo senza alcun pregiudizio e con l'innocenza, la lealtà che contraddistingue ogni giornalista. Poi sarà il pubblico a giudicare se parlarne o sparlarne. Il giornale è gratuito. Sì, appunto sarà un free press, vanteremo la partecipazione di diversi sponsor e sarà così che cercheremo di sopravvivere e vivere quanto meglio possibile.